L'uomo creato per la vita e non per la morte. Il cristiano deve opporsi ad ogni cultura di morte. L'uomo è stato creato per la vita, per gioire, per creare relazioni, amore verso Dio, amore verso gli altri. Quando l'uomo si impegna a difendere la vita fisica e dello spirito diventa collaboratore di Dio e salvatore dell'uomo. A coloro che si trasformano in operatori di iniquità, Gesù dice sarebbe meglio per loro gettarsi in un mare con una macina al collo. Una delle difficoltà enormi è lo scandalo. In mezzo ai discepoli c'è un pampino e Gesù prende l'occasione e dice che chi scandalizza uno di questi piccoli è meglio che si gettasse in un mare profondo. L'esperienza ci dice che molti giovani sono vittime dello scantolo degli adulti. Sempre strano, noi diamo la colpa ai giovani, la colpa dipende dagli adulti. Una volta si diceva cattivi esempi, cattive compagnie sono termini che sono stati aboliti dal vocabolario, termini da non parlarne più e sono le triste conseguenze in cui ci troviamo. Oggi la tv con il pretesto di libertà continuamente proietta abusi sessuali, frodi fiscali, disimpegno sul lavoro. Tutto agisce negativamente sulla formazione della gioventù. I romani dicevano talis pater, talis figlius. Noi diciamo figli d'arte. Alcune realtà moderne offendono la vita e la salute fisica, dono di Dio. Quali sono questi elementi che possono offendere la vita dell'uomo? La droga è di comune conoscenza? Il male che porta la droga? E come si trova in commercio? E da sola che si vende? Che si va in un luogo e uno ne prende quante ne vuole? No! Ci sono quelle che la importano, quelle che la coltivano, quelle che la spacciano. E perché? Per fare soldi, guadagno, ma si muore. E pazienza, pazienza. Non la comprassero. E tu non la vendere se ami il popolo, se ami il fratello. Quindi la piaga molto forte a cui le autorità sono chiamate direttamente a risolvere questo problema. Sono chiamate direttamente le parrocchie a difendere questo problema. Sono chiamate le famiglie che non devono essere vittime, ma devono reagire e vigilare sopra i figli con gioia, con serenità, con amore, ma essere vigili nella vigilanza dei sopra i figli. Poi lo stress, il lavoro dalla mattina alla sera, si corre, ci si impegna in tante situazioni che alla fine ci si sente stanchi. E non si è, non si ha il motivo per stare riposati insieme a Dio, a Cristo, Gesù. Lo stress è sempre negativo per la salute. Come si può creare lo spazio per la Santa Messa se si è occupata in tante faccende? Tutto bisogna fare. Tutto ciò che riguarda lo spirito? Beh, questo poi se ne parla. Ancora lo sport. Lo sport è una componente essenziale della vita, sia per i professionisti e sia per i direttanti, ma è vietata la box, alcune imprese alpinistiche. Sono pericolose le corse automobilistiche. E poi l'osservanza del codice stradale. Causano incidenti, la stanchezza, la sonnolenza, l'alcol. Allora vedete quante responsabilità abbiamo verso il nostro corpo. È un dono grandioso che ci ha dato Dio. Bisogna amarlo, bisogna difenderlo, bisogna custodirlo perché è una creatura uscita dalle mani di Dio ed è destinata alla gloria del paradiso.